Siamo qua a parlare di malattia di Couchet, che è malattia rara e come tutte le malattie rare, spesso sono malattie a cui non pensiamo noi clinici e quindi estremamente misdiagnosticate. Malattia rara con incidenza che comunque negli ebrei a Scaniazzi va da 1 a 5 mila, nella popolazione generale una intorno a 50 mila, ma se andiamo a vedere i dati del registro e nello specifico i dati dei pazienti diagnosticati in Italia sono estremamente bassi rispetto a quello che dovrebbe essere l'incidenza e il rapporto a quello che ci siamo detti prima. Quindi malattia misdiagnosticata perché è una malattia a cui non pensiamo, perché è una malattia che ci mette del suo avendo delle caratteristiche estremamente variabili di espressioni fenotipiche, ci sono pazienti che cominciano a manifestare i primi segni di malattia nei primi anni di vita, ci sono pazienti che arrivano senza una diagnosi a 70-80 anni, è capitato di fare diagnosi anche a 80 anni solo perché avevamo visto delle comorbidità che potevano essere correlate alla malattia. Quindi in tutto questo è quello che bisognerebbe fare più cultura nel mondo scientifico, fra i medici delle varie branche che possono venire a contatto con pazienti di questo tipo, dicevamo che ha un'espressione fenotipica molto variabile, ma l'espressione fenotipica variabile vuol dire che la malattia si può manifestare con segni prettamente ematologici, la splenomegalia, la piastinopenia e quindi arrivare all'ematologo, ma nello specifico può arrivare all'ortopedico se ci sono i segni ossei, può arrivare al pediatra quando si manifesta nei primi anni di vita. Quindi la cosa che dovremmo cercare di incrementare è quello di fare cultura sia in termini scientificamente, quindi produrre materiale che può arrivare facilmente sul tavolo del medico di base e dei vari specialisti internisti coinvolti nella malattia stessa.